Carissimi compatrioti, sono tempi bui questi, amici che se ne vanno, resti in pista e in priori, nuovi amici in Parlamento, però la Mani Pulite Crew vorrebbe invitarvi ad un altro sodalizio, l'8 giugno, al Circolo Culturale Magnoia, per il Festival di Ani, al palco Deezer, troverete noi, la Mani Pulite Crew, venite a ritardarvi un poco con noi, ingegni!